Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Curly Chain dei Master Gamers e oggi siamo tornati sul secondo episodio del Road to Division 1 La scorsa volta ci eravamo lasciati dopo la partita di prova e dopo la prima partita con la nostra squadra Se vi ricordo nella prima partita abbiamo guadagnato 3 punti, infatti Andiamo a giocarci subito la seconda partita con la stessa identica rosa della volta precedente Eccoci qui Seconda partita dell'ultimo team Una squadra mista però c'ha Quadrado Aia Ma noi non ci spaventano queste cose Come on Andiamo a rompergli il culo E si comincia Ma dai ma punizione dai subito Quel portiere che guarda le palle io lì Portiere Ma cosa ti cambio ragazzi il portiere? Non è possibile Non è possibile È illegale L'ha guardata Tre ore dopo si è buttato Bello Subito Cattiveria E via Palacios Martírez 1 a 0 Palacios Martírez Sempre lui Sempre lui Come on Incredibile Ancora lui Perché faccio No Che culo Bellissimo Madonna come mi ha fermato bene Mannaggia lui Mannaggia lui No 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 Oh E non si ferma Ragazzi in area Ve lo vorrei far notare Esiste una cosa chiamata Ara di rigore Che sta molto vicino alla porta E beh Io sono intelligente Come un macaco blu Tira Cosa ha fatto? Circo di Monte Carlo ragazzi Solo qui I Master Gamers Madonna ti falcio le gambe Madonna come lo salta bene L'ha visto La botta Madonna Di quanto è uscita? Palacios No ragazzi Io realmente Palacios non lo cambio più No 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 È da sol Madonna portiere Riflessi di un bradipo Vai Palacios Vai Palacios Mannaggia Palacios È tuo È tuo Rigore Rigore Come on Calcio di rigore Figa Portiere dei miei Trebbia Ragazzi facciamo tirare Palacios Martinez Attenzione Si prepara Goal Palacios Martínez Doppietta per lui Incredibile Gran giocatore Veramente Palacios Martínez No dai Come l'ha fermato Lascia lì il pallone Perché il pallone non serve al gioco del calcio Bello Grandissimo Palacios Palacios Cosa hai fatto? Prende se non molla Attenzione Per Parade Paredes Paredes Già fatto Ed è gol Ed è gol Incredibile Ma ho quitta Sicuro Come loro che quitta Lo sapevo Dai ma Schifoso Dunque grande partita Abbiamo guadagnato la bellezza di Un cazzo di crediti Andiamo a giocarci La La seconda partita Giusto oggi Una squadra di nigga Preparatevi A una delle più belle partite Mai viste Su FIFA No no dai Che cos'è Che gol di merda è Ok Scherzavo Portiere Portiere Stiamo scherzando Stiamo scherzando Portiere Era tua Ma che te la Dai ma No è incredibile Veramente Oppure il gol della merda Ci viene da fare Quando le partite Partono male Partono male Bene ragazzi Pensiamo a giocare La terza partita di oggi Terza ed ultima partita di oggi Se FIFA decide Di trovare un avversario No Neanche tanto male Mi preoccupa Ancora Il portiere arabo Mi preoccupa Un po' L'attacco Più che altro Per quella Per quell'inglese lì Non so il nome Ma già che è bronzo raro Poi si sa che gli inglesi Corrono come Delle bottiglie di vodka In calore Quindi No perché Dai ma il mio Si è fermato No Madonna cosa ha fatto Bucky Regà Stappiamo lo champagne Incredibile Ha fatto qualcosa Di buono Nella sua esistenza Dai Eh vabbè Quello cos'è Dai non è neanche fallo Cosa è successo La traversa Dai raga ma sto FIFA è un incubo Bravissimo Palacios Non ci credo Oh Dio Dio Oh mio Dio che gol Che lottatore Palacios Non molla Incredibile Fino alla fine Credibile Che gol Vede di Palacios Martinez Gran giocatore Veramente Ho detto che era un giocatore Merda Merda C'è Guarda la cazzo L'ho appena segnato Regà E finisce qui Il primo tempo 1-1 T'ho visto Che gol Che idiota No vabbè ma che partita è Che gol sono No vabbè ma è incredibile Incredibile Gran gol Sempre lui Federico Palacios Martinez No vabbè ma è un salto Con Ciro Regà Dobbiamo resistere Ma l'ottantaduesimo E finisce qui Io grazie Soffertissima Vittoria soffertissima Bene FIFA mi ha appena detto Che Mi sono ritirato L'ultima volta Quando non è vero Non caricava il gioco E mi ha crashato Dunque abbiamo da scartare Un pacchetto premio Lo scarterò qui Adesso in diretta Con voi Vediamo Chi troviamo E Umu Zuzi Chiudo questi giocatori Per crearmi la La rosa del prossimo episodio Ragazzi mi conta solo In Ciro Sarei passato Già Con la promozione Ma Non mi conta Le partite Che ho fatto Quindi niente Le rifaremo Comunque Vi ringrazio Per aver visto il video Iscrivetevi Magari Mettete mi piace Alla pagina di facebook E noi ci sentiamo Nel prossimo video Bella